Questo è un dibattito ampio, lungo, francamente credo che la statua fosse stata eretta per meriti giornalistici più che per altro tipo di trascorsi decisamente deplorevoli. Ci sono tutta una serie di comportamenti pregressi che chiaramente vanno condannati e non giustificati perché erano gli anni 30, perché erano pratiche abituali in altri paesi, perché rientrava in una presunta normalità. Questa è la forma più sbagliata di normalizzare ciò che invece va denunciato con grandissima forza. Che fossero gli anni 30, che siano oggi, nel 2020, sono gli stessi episodi di razzismo, di schiavitù, di violenza che assolutamente vanno condannati a gran voce.